Cittadini del mondo, bentrovati. Non devi essere un hacker se vuoi un cambiamento. Non solo su internet accadono le cose. La rivoluzione della coscienza è già in atto nel mondo, ed ora contano tutte le voci. Puoi partecipare anche tu, anzi, devi partecipare contro la battaglia globale che è in corso per conquistare la tua libertà e la verità. Il nostro obiettivo è far arrivare la nostra voce nelle orecchie di tutti i politici ed in tutte le stanze del Parlamento, riguardo alla libertà di parola, la guerra contro la corruzione e l'uguaglianza. Unisciti a noi. La politica mente, non ti rappresenta. I media ricevono notizie distorte, censurate che ti impediscono di arrivare al cuore della popolazione. Per questo sii tu stesso i media, crea i tuoi canali personali in rete, fai arrivare le tue parole ai tuoi compagni di battaglia e anche ai tuoi nemici. Le piazze, i luoghi comuni e le strade saranno i nostri media. Partecipa, accenditi, sii un attivista anonimus e un artista di strada. Ciò che devi fare è semplicissimo. 1. Sii creativo, serio e magari anche un po' ironico. Utilizza messaggi diretti. Esprimi le tue opinioni e critiche contro lo Stato. Devi volerlo il cambiamento. 2. Organizza, prepara, fotocopia volantini, striscioni, poster, adesivi, pennarelli indelebili o bombolette di colore, oppure scarica semplicemente le già esistenti immagini e stampale. Con pochi euro puoi creare dei capolavori. 3. Distribuisci i volantini, appendi i tuoi striscioni, incolla i tuoi poster con il nastro adesivo, spruzza con la bomboletta sui muri per creare dei veri street art, 4. Metti immagini nelle bacheche in giro per la città. Mettiti d'accordo con i tuoi compagni e unite le forze, e parla a più persone possibili di anonimus, della politica corrotta e della povertà. 4. Documenta ciò che crei. Cattura con una foto la tua arte in modo tale da fare arrivare a più persone possibili il tuo messaggio. 5. Lavora di notte o comunque quando c'è poca gente. Fai attenzione alle telecamere e dalla polizia, non lasciare tracce se non della tua arte. L'attivismo non è reato. Ma purtroppo negli ultimi tempi devi stare molto attento. Attenzione, per quanto i tuoi lavori possano andare bene ad anonimus, utilizza con cura i nostri loghi, emblemi, immagini già esistenti, poster, striscioni, la maschera dv, wifi case, oppure, il nostro ormai conosciuto slogan. Il tuo messaggio non deve essere per niente raziale. Buono lavoro, crea con noi, sii anonimus, sii un guerriero delle strade. Noi siamo anonimus. Noi siamo legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettateci.